Speriamo che questa consapevolezza che indubbiamente c'è stata nella pandemia non venga persa e che lo sforzo che tanti compiono per garantire una relazione personale, umana, sia aiutato, accompagnato sempre anche dall'attenzione di tutti, cioè se ci mettiamo nei panni degli altri, ne chiamiamo anche la fatica, lo sforzo, è chiaro che quindi c'è un incoraggiamento, se invece al contrario gli altri sono sempre tutti quanti, è una controparte, è tutto dovuto, facilmente poi c'è l'atteggiamento contrario di fastidio e questo poi a sua volta produce una reazione. Credo che da questo punto di vista la pandemia ci ha aiutato a dare a ciascuno una consapevolezza dell'altro e a ciascuno della consapevolezza del proprio ruolo, dell'importanza delle cose che io faccio. Se non perdiamo questo, credo che anche la relazione tra personale sanitario e malato e viceversa tra i parenti e i personaggi sanitario sarà certamente migliore.